Luciana Veschi, cittadini per cambiare San Giustino, sono passati circa due mesi dall'insediamento della Giunta Fratini, da più parti si sussurra. Quanto tempo ci vorrà per vedere iniziare il lavoro della Giunta di centro-sinistra? Buonasera innanzitutto a tutti. Dunque, diciamo che questo mese di rodaggio magari ce lo aspettavamo anche noi, chiaramente. Però, ecco, insomma, qui se si considera il rodaggio, la pausa estiva, in effetti questa Giunta ancora non ha iniziato a lavorare, devo dire con onestà. Poi, naturalmente, l'attività è anche pubblica, quindi basta verificare appunto le Giunte, il numero di Giunte che si sono succedute e riscontrare che in effetti è una Giunta che non ha praticamente ancora iniziato ad operare. Quindi ci aspettiamo che, insomma, i tempi morti siano recuperati anche celermente, visto che c'è un'estrema necessità di intervenire e soprattutto di lavorare. Ecco, è stata, per adesso devo dire soltanto che un grande attivismo si è manifestato da parte della Giunta e del Sindaco nel partecipare a tutti gli eventi, se vogliamo, folcloristici, paesani, che per carità hanno rilevanza. Però la partecipazione e l'organizzazione di eventi di fatto che fanno parte del nostro folklore e della nostra voglia anche di socializzare è un po' riduttivo. C'è bisogno di concretezza e soprattutto di riscontrare un'amministrazione che lavori. Nei primi 100 giorni si era sussurrato tra le righe e tra le promesse, chiamiamo le promesse, della campagna elettorale. Lavoreremo subito sull'abbassamento dei costi della politica, sull'ammodernamento della macchina comunale, ma prima di tutto cercheremo di dare un po' più sicurezza ai tanti cittadini. Su questo fronte sembra che tutto tace. Siamo riusciti un po' a spulciare il bilancio 2014 e ci sembra che delle due le tasse stiano aumentando. Allora, dunque, innanzitutto, per onestà intellettuale, devo dire che il bilancio 2014, in realtà, l'attuale amministrazione aveva pochi margini di autonomia. Quindi, chiaramente, per i tre quarti i soldi erano già stati spesi e di fatto l'autonomia dell'attuale amministrazione era minima. Con questo non significa che far passare delle riduzioni relative alle imposte da parte della nuova amministrazione è del tutto ingannevole nei confronti della cittadinanza, anche perché abbiamo riscontrato che di fatto così non è. Perché laddove c'è un minimo di riduzione per quanto riguarda l'Imu, poi, in realtà, vediamo che c'è praticamente un'imposizione della Tasi che comunque sia compensa. Bisogna dire, per quanto riguarda la politica relativa alle imprese, abbiamo visto che anche lì non c'è stata nessuna intenzione di ridurre praticamente le imposte, mi riferisco a Tasi Imu, per quanto riguarda i capannoni industriali. Mentre, di fatto, questo l'ho riscontrato in altre amministrazioni, ad esempio Perugia, ha deciso di applicare, appunto, aliquote zero per quanto riguarda la Tasi per le imprese in favore delle seconde case. Anche per sostenere un pochino l'economia degli affitti. Di fatto, cioè, praticamente ci sono diversi immobili anche sfitti, e comunque l'economia relativa all'edilizia è ferma, quindi bisogna incentivare in qualche modo sia praticamente le imprese, quindi naturalmente alleggerire il peso fiscale, e una parte notevole la deve fare naturalmente il Comune, che praticamente chi ha immobili, perché attualmente il proprietario di un immobile non è che sia un privilegiato, anzi onerato di una serie di imposizioni fiscali che aggravano notevolmente appunto la proprietà e di fatto incentivano anche praticamente degli abbandoni che non è positivo. Quindi non vedo, non ho riscontrato nessun tipo di indirizzo in relazione ad una volontà espressa in campagna elettorale di agevolare appunto sia le imprese che praticamente i cittadini, e quindi al contrario ho riscontrato praticamente tutto l'opposto. Quindi niente di nuovo sul fronte in posizione fiscale rispetto alla vecchia amministrazione. Sicurezza e ammodernamento della macchina pubblica. Qui si erano spese tante parole, a dire il vero. Beh, c'è un assessore in più, quindi questo comporta degli oneri aggiuntivi a livello, naturalmente, da parte della pubblica amministrazione. Ho riscontrato che nessun assessore ha rinunciato all'indennità. Tutti percepiscono l'indennità prevista per legge, quindi per chiarezza chi è un dipendente pubblico, praticamente, chi è un dipendente naturalmente ha diritto ad un'indennità ridotta già per legge. Oltre a questa riduzione di legge non c'è stata nessuna ulteriore riduzione per quanto riguarda gli assessori, poi ci sono due assessori che percepiscono un'indennità piena, in particolare l'assessore Mancini e l'assessore Manfroni. E poi c'è il sindaco che si è ridotto minimamente, praticamente, l'indennità. Ma io, comunque, quello che punterei più che altro è sul fatto che in effetti è un'amministrazione assente, perché comunque anche da quello che si riscontra praticamente all'interno del sito del Comune, gli assessori sono presenti soltanto su appuntamento. Insomma, siccome gli oneri, tra l'altro, sono anche elevati, per quanto riguarda percepiti appunto da tutti gli amministratori, io direi che comunque sia se il caso che la presenza degli assessori venga garantita almeno due giorni a settimana, per giustificare sia la loro attività, sia il loro praticamente impegno sia il riscontro economico che loro appunto percepiscono. Ora, che il sindaco non fosse stato presente, questo lo sapevamo noi, lo sapevano anche chi l'ha votato, quindi chiaramente voglio dire non è che questa è una sorpresa. Mi sorprende molto che non lo è neppure il vice sindaco, perché in effetti, siccome il sindaco non ha assunto su di sé nessun tipo di delega, ed è un caso più unico che raro, chiaramente, delegando appunto gli altri, i delegati devono garantire una presenza. Presenza non significa soltanto presenza fisica, ma significa lavoro. Parliamo di sicurezza, ci spostiamo sul corpo dei vigili urbani, la Polizia Municipale di San Giustino, ci dovrebbe essere in tempi brevi l'accorpamento, credo, tra il comune di Citerna e il comune di San Giustino, ma a noi ci risulta che manchino 2 o 3 mila euro per arrivare a fine anno, questo, credo, per garantire alcune spese o gli emulimenti del corpo dei vigili urbani. In effetti di tagli non se ne parla, quindi logicamente, non essendoci tagli, voglio dire, è difficile individuare risorse diverse, praticamente, che possono compensare appunto le carenze. Io avrei pensato, avrei sperato che questa amministrazione avesse comunque tagliato, partendo proprio, prima di tutto, dalle proprie indennità. Così non è stato e, tra l'altro, questo accorpamento, che di fatto è stata una decisione subita, non fa altro che penalizzare maggiormente il comune di San Giustino, perché, logicamente, voglio dire, ha a disposizione maggiori risorse, ma non per altro, soprattutto perché comunque è più grande e non, ecco, chi ci perde è il comune di San Giustino, insomma, chiaramente. Ma per quanto riguarda invece il problema sicurezza, è un problema arcinoto e speravo che in effetti fosse affrontato con maggior impegno. Non ho riscontato nessun tipo di iniziativa in merito, anche per quanto riguarda l'attività, appunto, di coordinamento con gli altri organi di pubblica sicurezza. Diciamo che, a parte una conferenza stampa, appunto, del Sindaco, che ha proclamato praticamente un intervento da parte della Polizia Provinciale, in simbiosi con me, concretamente qui non abbiamo ancora visto nulla. così come anche per quanto riguarda il turismo, perché, di fatto, dobbiamo dire che, stranamente, questa estate, che comunque sta per terminare, sta volgendo al termine, è stata una delle più proficue di questa zona, perché, grazie al tempo, se vogliamo, in questo caso possiamo anche ringraziarlo, la nostra zona, insomma, quindi tutto l'Alto Tevere, ha risentito di un beneficio positivo, perché magari chi era orientato per le vacanze marittime comunque ha cambiato destinazione, volgendosi soprattutto alle città culturali, quindi Firenze, Roma, e sono passati molto anche per l'Umbria. Io, per primo, ho riscontato diversa gente che, comunque sia, intendeva visitare, appunto, il Castello Bufalini. Mi aspettavo, visti i proclami, che ci fosse anche lì un maggiore impegno. In realtà, grazie sempre all'Associazione Amici dei Musei, il Castello è aperto a fine settimana, ma non si può sempre delegare agli altri, alle associazioni, eccetera. Quindi, di fatto, manca comunque un'attività, un impegno, ecco. Brevemente, a questo punto, come vi muoverete? Allora, intanto, io posso rendere noto quello che fa parte, appunto, dell'attività amministrativa a cui io ho partecipato. Per quanto riguarda la Commissione Urbanistica, si sono svolte due o tre commissioni in cui la prima decisione da parte dell'amministrazione è di sostituire, appunto, la fontana. Questo comporta un ulteriore sborso di 12-15 mila euro per computometrico e, al di là che l'intervento avrebbe dovuto essere già fatto, però ritengo che l'amministrazione non soltanto sia onerata di pagare il mutuo fino al 2032 per la realizzazione, appunto, dell'opera, ma ha già provveduto, incautamente, perché avrebbe potuto anche nelle amministrazioni passate intervenire in maniera diversa, insomma, voglio dire, visto che hanno amministrato loro, potevano farlo, incautamente eliminare, appunto, tutti quelli che sono e che hanno rappresentato un danno per la pubblica incolumità, quindi tra i dissuasori, tra gli scalini, adesso addirittura anche la fontana, questo comporta un ulteriore sborso, così come di statua, per cui l'amministrazione ha investito passata 30 mila euro di fondi pubblici, sia regionali che comunali, 30 mila euro perché erano due le statue vegetali. Attualmente l'unica decisione che è stata presa è quella di recuperarla, senza sapere che fine ha fatto. Comunque tutti i soldi pubblici che di fatto non sappiamo che riscontro hanno avuto.